nella parte meridionale del piemonte le colline lunghe ripide e parallele delle langhe accolgono vigneti castelli paesi medievali tartufi e personaggi nascosti non proprio facili da percorrere a piedi o su due ruote come diceva leno viaggiatore mario soldati qui tutto ruota attorno al vino è il prodotto che monopolizza i suoi abitanti e viaggiando lo si scopre il 22 giugno 2014 le langhe sono state ufficialmente incluse assieme a roero e monferrato nella lista dei beni del patrimonio dell'umanità le langhe sono un territorio del basso piemonte situato tra le province di cuneo e asti costituito da un esteso sistema collinare delimitato dal corso dei fiumi tanaro o tanaro belbo bormida di millesimo e bormida di spigno e confinante con la stesana il monferrato compreso il primo tratto della bormida propriamente detto e detta e il roero le langhe si suddividono in paesi delle langhe a bassa quota zona con quote genericamente inferiori ai 600 metri zona di vini e tartufo il rinomato bianco di alba paesi delle langhe di alta quota zona con quote fino a 896 metri in cui dominano i boschi e la coltivazione della pregiata varietà di nocciole la tonda gentile delle langhe la langhe astigiana zona nel sud della provincia di asti le langhe si distinguono per la vasta produzione enogastronomica e sono un importante centro di viticoltura e vinificazione dove spiccano numerose varietà di vino in larga parte soggette a certificazione doc o di ocg quindi di origine controllata quali barolo nebbiolo barbaresco dolcetto d'alba dolcetto di dogliani barbera d'alba per la verga di verduno come detto altrettanto celebre è il tartufo bianco di alba in onore del quale ogni anno si tiene una fiera internazionale e capillarmente diffusa e altresì la coltivazione della nocciola tonda gentile delle langhe come ho già detto numerosi sono anche i formaggi sottoposti a tutela dop di origine protetta primi fra tutti le robiole di roccaverano e murazzano tutta la varietà sopra descritta ha favorito negli anni lo sviluppo del turismo enogastronomico l'etimo del nome langhe che in piemontese indica proprio la collina è incerto una prima ipotesi è stata un accostamento alla voce lombarda lanca poi partendo dall'etnico ligure langates si è ricavata una base riferita alla posizione del castello o al castello stesso dove vivevano queste popolazioni un'altra ipotesi invece propende per un accostamento a una base non indoeuropea lanca col k che si riscontra anche in langobriga città iberica dal probabile significato di conca avvallamento e da questo zona collinare infine un documento del novecento dopo cristo parla di langarum e nel 1300 nella cronica immagini smundi di jacopo d'acqui c'è scritto in montibus albe ubidicitur langhe nell'età del ferro dominarono le tribù liguri degli epanteri e degli stazielli che in seguito alle migrazioni galliche formarono la cultura celto ligure furono sottomessi dai romani nel 179 avanti cristo ma solo con augusto si può parlare di un vero processo di romanizzazione durante il periodo carolingio le langhe fecero parte della marca aleramica il cui primo titolare fu appunto aleramo che contribuì a liberare piemonte e liguria diponente dai pirati musulmani alcuni territori rimassero in diretto possesso degli aleramici sotto l'autorità del senato di milano fino al 1700 quando passarono al ducato di savoia col trattato di utrecht del 1713 al termine della guerra di successione spagnola tra 1800 e inizi 1900 le langhe conobbero un forte degrado e un'estrema povertà seguito da un progressivo spopolamento a favore delle città industriali durante la seconda guerra mondiale le langhe furono teatro della lotta di resistenza descritta anche nei romanzi dell'albese beppe fenoglio nel corso degli anni 1990 un rinnovato interesse per il mondo agreste ha portato alla ristrutturazione spesso operata da cittadini non italiani di cascine e castelli riconvertiti in agriturismi bed and breakfast e musei etnografici nonché all'allestimento in produzioni agricole ed eccellenza e all'interesse per il turismo tutto ciò ha tramutato le langhe in una zona economicamente competitiva e benestante